Cari teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata a quei libri che hanno un formato strano, cioè sono o fuori formato, nel senso i grandi, 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 piccoli, 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 oppure hanno una forma particolare. Forse ne abbiamo già parlato in un altro video, ma avevo piacere di tornarci, perché ci sono dei libri che a volte non hanno manco la forma di un libro, anche se è importante che ce l'abbiano la forma di un libro, ma insomma sono esperienze cartotecniche, quindi rientrano nell'ambito editoriale, ci abituano ad una estetica di un certo tipo, però sono delle costruzioni effettivamente particolari. Ma partiamo dai libri fuori formato, quindi giganteschi o piccolissimi, posto che naturalmente nessun libro è uguale a se stesso, oppure pochi, solo le collane di solito sono omogenei per dimensioni, diciamo, soprattutto quando entriamo nella parte degli albi illustrati o dei libri per bambini abbiamo davvero tante differenze, poi ci sono i libri fustellati, i libri cartonati, insomma tanta varietà in questo mondo editoriale. Però, insomma, faccio questa mia piccola carrellata, poi mi direte voi tutto ciò che manca, come sempre manca tantissimo, sono solo dei piccoli spunti. Partiamo da Zoology di Georges Olivet, c'è anche la versione italiana edita da Rizzoli, questo è enorme, ve lo faccio vedere grande tutto così, ne è uscita anche una versione piccola, interessante che però non ho ancora avuto tra le mani. Quando lo aprite, questo libro è magnifico anche solo per le sue dimensioni, devo dire che la divulgazione scientifica ne guadagna tanto da questo tipo di formato, fa proprio molta molta scena. Il libro più piccolo invece che ho trovato, non è un libro per bambini, ma è un libro che secondo me può essere usato come spunto per lavorare, soprattutto con i grandi, perché maneggiare le cose piccole è difficile per i piccolini. Questo meraviglioso libro di Ionesco, il genio del teatro dell'assurdo, è come preparare un uovo sodo, è proprio parte per parte, minuto per minuto, come si cucina un uovo sodo, che sembra facile ma proprio non lo è. Io lo adoro questo libro anche solo per il suo formato. Andiamo avanti con libri invece che non hanno tra virgolette un problema di dimensione, ma hanno una caratteristica, sono fatti in maniera particolare. Naturalmente ci sono quelli a fisarmonica, questo è un metro edito da Orecchio Cerbo e sono abbastanza frequenti, diciamo variante della fisarmonica, ma a cui volevo dedicare un minimo di attenzione, è un tipo di lavoro che io non vedo fare più da parecchio tempo, ma che una volta aveva dato i suoi frutti secondo me. Questa è la mia casetta dei tre porcellini di quando ero piccolina, dentro si apre e c'è proprio la casa dei tre porcellini, ma la storia dei tre porcellini è fatta, scusate ve la apro dritta, è fatta a fisarmonica e quando poi finisce, eccola qua, torniamo dentro la casa dei porcellini. Quindi stessa cosa, un attimo che lo ritiro su, perché questo è preziosissimo, ci tengo da morire, è proprio una parte della mia infanzia, stessa cosa la faceva questo libro, che invece è la bella e la bestia, che si apriva così, ha il libro a fisarmonica, eccolo qui, e alla fine del libro ci sono loro due, eccoli qua, che si sposano. Ecco, questi sono libri a fisarmonica, che però vengono racchiusi in un formato particolare. Last but not least, esempio di libri davvero particolari, ovviamente c'è Munari, lì potete prendere a piene mani, ma oggi volevo buttare così delle idee un pochino diverse. Il lavoro meraviglioso di Kazumi Komagata, questi sono due dei volumi di Little Eyes, che funzionano in maniera diversa dal punto di vista cartotecnico, se riesco ad aprirli adesso ve lo mostro. Questo è The Animals, The Animals fa questo gioco qui, voilà, eccolo. Ognuno naturalmente potrebbe costruire una storia che siamo disposti a raccontare o a vedere, ce ne sono anche alcune che si sviluppano in verticale. Eccoli qua, vabbè, Kazumi Komagata è un genio, non è edito in Italia, bisogna comprarli all'estero, ma ci sono alcune case editrici in Italia che, scusate, alcune librerie in Italia che le vendono, ne ho parlato, vi metto tutto nei commenti. Questo invece è Walk and Look, sempre dei Little Eyes, ed è fatto così. Questo è Day and Night. E poi abbiamo il mio preferito che è Ships and Wolf. Funzionano così. Ecco, mi piaceva, io ho insistito, insisto sempre tantissimo, questo è Tiger and Zebra. Insisto sempre tantissimo, quando lavoro con i libri per bambini molto piccoli, sull'importanza del fatto che il libro abbia la forma di libro, che non sia, che non possa essere scambiato con un altro oggetto. Per esempio, mi vengono in mente i libri fatti a palla, i libri fatti a chitarra, quelle solite schifezze, scusatemi se sono così esplicita. Però il punto non è far sì che un libro sembri un gioco così ci piace un po' di più. Il punto è educare ad una estetica e ad una, anche tattilità, con il rapporto tattile con la carta diverso. Per cui i grandi formati, i piccoli formati, le fisarmoniche, questo lavoro strepitoso di Katsumi Komagata, esattamente come quello portato avanti da Munari, e ad altre esperienze, sperimentazioni cartotecniche, i pop-up, quando sono a questo tipo di livello, hanno un valore estetico proprio di un altro, vengono da un altro pianeta, non so come dire. Quindi credo che sia importante incontrare, oltre i libri e oltre tutti i vari formati dei libri, anche delle proposte cartotecniche diverse, che giochino con l'estetica e giochino comunque con la narrazione. Vi mostro l'ultimo prima di lasciarvi, perché qui che occhieggia da sempre dietro alle mie spalle quando faccio i video, questo è un esperimento di Kokai, Kokai Design di Valentina Gottardi, che si sperimenta con la cartotecnica e la divulgazione, io la trovo bravissima, questa, questo è il gufo e questa è la farfalla gufo e questo è il passaggio che conduce da uno all'altro, per cui se lo vedete così, questa è la costruzione del gufo, se lo vedete così, questa è la farfalla gufo, bellissima, io la trovo bellissima. Insomma, sono esperienze, ecco, sono esperienze con la carta ed esperienza di lettura, in qualche modo, che mi piaceva darvi come spunto oggi. Che ne pensate? A voi piacciono i libri grandi, grandi, grandi o quelli piccoli, piccoli, piccoli o quelli fatti strani? Raccontatemi la vostra esperienza, noi ci vediamo tutti i giorni, anzi no, ci leggiamo tutti i giorni su testefiorite.it, Instagram, Facebook, TikTok e naturalmente sono sempre qui per approfondire con voi i corsi on demand del portale Teste Fiorite Lab. Ciao!